amici guardoni degli scacchi ben ritrovati con la rubrica degli scacchi con i guardoni oggi vi propongo una partita diabolica magari finisse di suonare antifurto fuori sarebbe anche una bella roba una partita diabolica giocata con il terribile mariuzzo 933 mariuzzo 933 che è un nostro un nostro guardone un utente del canale gioca con giochiamo insieme no talvolta a scacchi giornalieri è un avversario temibilissimo io ho vinto una partita contro di lui le successive tre le ho pattate questa inclusa spoiler va bene è un avversario che dimostra grande fantasia grandi risorse d'inventiva io voglio tributargli un plauso talvolta forse ha qualche imperfezione nel gioco eccetera lascia qualche pedone ma ha una fantasia notevolissima vi faccio vedere una partita davvero interessante io ho giocato l'apertura con i piedi è successo di tutto una roba da non dormire la notte andiamo a vedere naturalmente vi ricordo di mettere like e iscrivervi al canale io i pezzi neri mariuzzo gioca di 4 la partita è stata giocata su chess.com ho iniziato a fare il video su chess.com ma quella cavolo di scacchiere di analisi è sballata completamente per cui l'ho portata qui sull'icess la partita gioco cavallo f6 imposto la difesa india est indiana che io gioco di solito contro le partite di donna mariuzzo gioca cavallo f3 g6 e qui cavallo c3 da parte dell'avversario è una mossa che ci sta propone la trasposizione in una pierce di solito se il bianco vuole giocare un sistema di est indiana pura gioca c4 cavallo c3 e con cavallo c3 supporta la spinta in e4 giocando subito cavallo c3 non fa c4 ma prepara subito e4 e si rientra così in una pierce qui avrei dovuto forse giocare potuto insomma ma non ci ho pensato ho giocato un po a macchinetta giocare a macchinetta è sempre il rischio di questi setup in cui uno gioca un po a memoria tipo est indiana londra eccetera avrei dovuto giocare ho potuto giocare d5 per impedire e4 e non rientrare in una pierce io invece ho fianchettato lui gioca e4 siamo in una pierce d6 da pierce impedisce o mette un fermo comunque su e5 h3 di mariuzzo blocca le uscite del mio affiere campo chiave impedisce che io gli inchiodi il cavallo in f3 sulla donna e qui mossa sbagliata da parte mia cavallo b in d7 è un errore è un errore perché bisognava arroccare qui la teoria proprio della pierce bisognava arroccare e mettere al sicuro fuori dal centro io ho giocato a macchinetta a pappagallo pensando di essere ancora in un est indiana dove io gioco di solito cavallo b di 7 magari prima di arroccare e lui infatti trova la mossa giusta gioca e 5 vedete che ha già un vantaggio cospicuo di più 2 e spingi qui devo prendere per forza anche il motore dice che se si poteva ritirare subito il cavallo ma io ho preso lui ha preso e adesso questo cavallo me lo devo mettere in saccoccia lo devo riportare a casa vedete che qui in g5 non può andare qui ne quattro in g4 scusatemi qui ne quattro nemmeno può andare anche metterlo in h5 è sbagliato perché lui fa g4 e il cavallo lo perdo quindi devo ritirarlo in casa in tasca e qui temevo molto 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 f6 scusate e 6 spinta con sacrificio di pedone per rompermi la struttura pedonale era una mossa che temevo tantissimo ma io sono la giocata ha giocato f4 l'alfiere in f4 scusate stavo guardando qui sta roba errore di caricamento nel motore chissà per che motivo io con la tecnologia ho un pessimo rapporto alfiere in f4 sostiene il pedone sviluppa un pezzo e io sono nelle peste gioco e 6 per impedire che lui giochi e 6 devo mettermi a posto molto velocemente coi pezzi e cercare di mettere una pezza in questa posizione già molto molto scomoda scusate mi fermo un attimo provo a vedere se il motore si riprende scusate sembra essersi ripreso va bene dicevo ho giocato e 6 devo mettermi a posto la velocità della luce coi pezzi alfiere e2 forse non la più ambiziosa delle mosse però ci sta sviluppa un pezzo io tiro fuori il cavallo cavallo in e7 devo arroccare devo levarmi dai piedi al centro lui gioca alfiere g5 perde il vantaggio secondo il motore allora inchioda il cavallo sulla donna io ho visto che ha lasciato il pedone in presa l'ho preso immediatamente però forse era meglio non essere così avidi e mettere a posto il re magari giocare prima h6 naturalmente perché bisogna tenere qui tutto perché se si arrocca subito cosa succede vediamo arrocco h4 si poteva anche tentare questa linea veramente così ecco h6 era la migliore forse per cacciare l'alfiere perché l'alfiere qui è su una diagonale molto scomoda come vedremo tra un momento io però sono stato avido e ho preso il pedoline 5 lui ha cambiato le donne mi ha lasciato il re al centro scacco e adesso insomma penso che tutti noi vorremmo giocare col bianco il computer del gioco pari però il bianco ha una posizione obiettivamente più comoda io sbaglio gioco re 8 era molto più giusta dice il computer cavallo d7 ritirare questo cavallo un po per aria chiudere la colonna e levarsi dalle scatole io pensavo che andasse bene anche re 8 non va bene invece re 8 perché c'è questa convergenza di pezzi su d8 ed è un tema di matto perché se lui porta la torre in d8 con l'alfiere che la guarda che la difende io mi becco matto prende mariozzo io riprendo f4 aiuto ritiro l'alfiere questo mi ha buttato addosso tutto questo disgraziato ecco cavallo b5 minaccia il doppio qui vedete che tiene d'occhio questa questa casa in c7 minaccia il doppio io qua ho giocato cavallo d5 per chiudere la colonna torniamo indietro qui il computer vuole f6 f6 però uno dice prendi il doppio f7 uno poteva anche prendere qui qui e veniva fuori di tutto no va bene io ho detto va beh ma io gioco cavallo in d5 e mi chiudo la colonna qui è un problema gravissimo come vedete il motore da già partita persa mamma mia perché il problema è che questo cavallo non difende davvero chiudo la colonna e difendo il pedone il problema che questo cavallo non difende davvero il pedone lui può prendere tranquillamente con il doppio e se io riprendo non guadagno un pezzo perché mi ciuccio matto in una non l'abbiamo vista però né io né lui quindi pensavo di salvare capre cavoli no chiudere la colonna difendere il pedone lui trova un'altra buona mossa però sacrifica la qualità io prendo e mi dà il doppio rimuove il difensore presa presa e adesso vedremo che tutta la partita ruota intorno a questo benedetto cavallo in a8 io farò di tutto per baggiarlo e lui farà di tutto per portare in salvo questo cavallo e qui è veramente una cosa straordinaria intanto mi prendo quel pedone lì che vedete con l'alfiere si è aperta questa diagonale mi prendo oddio scusate sono estremamente maldestro così ok mi prendo il pedoncino in b2 lui arrocca questa non è tanto buona perché mi fa guadagnare un tempo poi mette il re su questa diagonale scura io posso togliere l'alfiere con scacco però prima gioco re c6 per tenere questa casa al cavallo per impedire l'uscita del cavallo e liberare la casa di 7 mio piano è tirar via l'alfiere e riprendere questo cavallo maledetto quindi ho dovuto fare come vedete ve lo faccio rivedere re c6 per aprire la diagonale chiara e nel frattempo tenere d'occhio le due uniche case di fuga del cavallo no lui gioca giustamente torre b1 mi minaccia l'alfiere io lo ritiro con tempo con scacco sposta al re gioco alfiere 6 adesso tutto è pronto per catturare il cavallo il cavallo nella via di fuga e io mi stavo già leccando i baffi no va bene guardate cosa succede qui cosa inventa quest'uomo scacco mi devo spostare notare che re c5 era amato in uno con alfiere 7 va bene quest'anno meno considerato naturalmente re c5 non è naturale sposto re c3 mi attacca al pedone prendo il pedone torre in c1 mi attacca l'alfiere difendo l'alfiere e intanto quel cavallo rimane lì f5 prendo il pedone a questo punto bariuzzo mi dice devo salvare assolutamente questo cavallo questo cavallo dopo mi dirà poi anche l'unbroken della partita io non sapevo cosa significa unbroken quindi sono andato a cercarlo e sono andato perdonatevi l'intermezzo su urban dictionary che è un dizionario molto bello del che riporta gli usi del come dire i modi di dire dello slang della lingua inglese going unbroken è un termine del crossfit che significa non piangere fino alla fine dell'esercizio anche se l'esercizio ti sta spaccando in due tu unbroken non ti spezzi ma vai avanti quel cavallo lì è un dannato unbroken che non non si non si piega i miei attacchi continui vedremo che sopravviverà fino alla fine della partita prendo il pedone dal punto di vista del materiale io ho tre pedoni per quel cavallo quindi imposterò il mio gioco sulla mia maggioranza di pedoni naturalmente scacco il sacrificio di pedone appena giocato da mariuzzo f5 non solo come dire guadagna un tempo ma libera questa diagonale scura dove lui riposiziona questo alfiere dandomi scacco non solo mi dà scacco e tiene la casa c7 creandosi la via di fuga per il cavallo ritiro il re lo ritiro in c5 attacco l'alfiere sposta il cavallo quel maledetto cavallo e difende anche l'alfiere torre torre in c8 aumento la pressione qui se non avesse fatto niente avrei preso il cavallo lui avrebbe ripreso con l'alfiere e mi sarei mangiato questo alfiere avanti g4 attacca l'alfiere alfieri in e4 adesso toglie quell'alfiere l'opposizione in a4 io gioco a 6 preparo questa spinta per guadagnare spazio avanzare avanzare con la mia maggioranza di pedoni questo cavallo è qui ma è intoccabile per il momento lui gioca i brividi ancora gioca cavallo e 8 con l'idea di evacuarlo da questa parte verosimilmente con tempo sull'alfiere io gioco una mossa oscena che è b5 la mossa è oscena perché non avevo visto questo doppio cavallo in d6 prende dentro l'uno e l'altro la torre e l'alfiere mi volevo strappare i capelli allora io ho un problema con i cavalli tutti hanno paura di qualcosa io ho somma paura dei cavalli negli scacchi paura che risale a tempi antichi quando al circolo il signor gilberto maestro nell'arte della cavalleria mi dava continuamente dei doppi di cavallo e perciò quando c'è un cavallo che mi turva particolarmente sulla scacchiera mi sale la pressione sanguigna mi si ottunde la capacità di ragionamento e non vedo più niente vado in panico questo carallo maledetto tornato dagli inferi tornato dalla morte è ancora qui a portarmi via del materiale io prendo un pezzo e gli do gli do un pezzo gli do una qualità di fatto tra l'altro rovinandomi la struttura pedonale però non c'era altro da fare credo che fosse la prima del motore a questo punto f5 voleva f5 un po un po strana ma va bene comunque sia mi rovino la struttura pedonale ma non c'era altrimenti sarei andato troppo sotto di materiale come vedete presa presa adesso vado su correa con la speranza di portare questo pedone a promozione aiutandomi con la coppia degli alfieri scacco mi sposto questa ecco questo è un errore di di mariuzzo questo è un errore posizionale a giocare giocare a tre perché perché in sinergia pedone alfiere tenevano l'uno la casa chiara l'altro le case scure impedendomi di attraversare di attraversare il fiume di andare con il re a molestare la torre e a tenere le case attraverso cui doveva passare il pedone a tre vedete che perde perde quasi tre punti di vantaggio uno dice una mossa minima di pedone perde tre punti di vantaggio pensate un po voi misteri degli scacchi no lui ha la spinta perché ha spinto pedone per difenderlo con l'alfiere presumo ma è appunto posizionalmente sbagliata date che io entro correa leva la torre minaccia di entrare qui io gioco f5 viene su correa spingo con il pedone passato di tre presa presa torna su con quel cavallo che io veramente cioè gli incubi la notte gli incubi la notte spingo spinge questa non era buona vengo su correa per tenere la casa di promozione viene su correa giocare in f4 l'idea qui è di andare a molestare il mio pedone in fondo e crearsi lui un pedone passato io non spingo subito il pedone cerco di togliere la torre dall'ultima traversa perché so che lui mi vuole schiantare la torre sul pedone evidentemente e allora cerco di tergiversare vedere se riesco a prenderlo a prenderlo in trappola di diciamo tira sulla torre torre f2 adesso io non posso spingere il pedone perché il pedone è inchiodato sul re attacco di nuovo la torre e lui a questo punto rompe gli indugi e schianta la torre sul pedone presa presa adesso io ho due pedoni di vantaggio questi però sono doppiati quindi devo stare molto attento devo ottenere la coppia degli alfieri e logorarlo in un finale di alfieri e alfieri contro alfiere e cavallo con pedone in più per riuscire a portare un pedone a promozione lui prende questo pedoncino qui io non cambio non cambio perché non voglio dargli il mio alfiere campo chiaro sul suo cavallo anche se quel cavallo appunto è un cavallo da incubo vado di là per attaccare questo pedone e crearmi via libera con gli altri pedoni lui sposta il cavallo in e3 io mi metto a calcolare tutte le cose possibili immaginabili doppi le case non vedo niente gioco una mossa che peggio di così non si poteva giocare re c3 lui mi da il doppio perdo l'alfiere siamo in un finale di alfieri contrari io ho un pedone in più ma di qui non si passerà mai quindi porca miseria quel cavallo quel cavallo ha fatto la partita di mariuzzo ed è finita così in parità ecco un plauso a mariuzzo che è un affabulatore finissimo del gioco con tutti quei sacrifici di pedone e quel cavallo mi ha davvero mandato in confusione io ho giocato male l'apertura dovevo roccare invece di far cavallo bd7 è finita così va bene grazie a mariuzzo che ha giocato con me grazie a tutti voi che state giocando con me che giocate molto con me basta non ho nient'altro da dire se non la mia solita ingiunzione conclusiva di fare sempre molto molto i bravi a presto cari